Abbazia di San Gaudenzio a San Godenzo costruita intorno all'anno 1000 ma passata alla storia soprattutto per una data, l'8 giugno del 1302, una data fondamentale per la vita di Dante Alighieri perché quel giorno si tenne il celeberrimo convegno che vide i guelfi bianchi rappresentati dal sommo poeta riunirsi con i jesuli ghibellini fiorentini per cercare di trovare una soluzione al rientro in città nel momento in cui le fazioni dei guelfi bianchi e dei guelfi neri stavano affrontando una delle lotte intestine peggiori della storia di Firenze e quella data rappresenta di fatto l'inizio dell'esilio ufficiale di Dante Alighieri perché la pace non fu raggiunta, gli accordi non furono firmati e il sommo poeta non fece più ritorno nella sua Firenze. Questa abbazia ricorda la figura di Dante con due targhe, una posta nel 1921 nell'occasione del seicentenario della morte di Dante Alighieri e una del 1955 posta dalla popolazione di San Godenzo. E alle mie spalle potete anche vedere la figura di Dante lì vestita di rosso col suo caratteristico abito che porge verso il paradiso la sua figura. È un mosaico che appunto oltre a figure di Santi e della Vergine Maria rappresenta la figura più significativa di questa abbazia ovvero quella di Dante Alighieri.